L'albero delle radici nasce dalla voglia di raccontare il territorio anche a Natale in modo diverso. Le radici affondano nella terra ma ti permettono di toccare il cielo. Questo il messaggio che parte da Santa Paolina per valorizzare le due grandi eccellenze. Questo è un albero che rappresenta il nostro territorio, quelle che sono le nostre risorse, in questo caso i grappoli d'uva rappresentano il greco di Dufo. E poi ci sono le foto che rappresentano tutti coloro che hanno lavorato attraverso la scuola di Tompolo per trasmettere quest'arte alle nuove generazioni. Abbiamo iniziato molti anni fa, non diciamo l'età ma sono molti anni fa e ci fa piacere che questo inizio che abbiamo avuto si è consolidato nel corso del tempo. Quindi bene ha fatto l'amministrazione comunale a ricordare la nostra identità culturale che è quella che ci contraddistingue con il Tompolo e il greco di Dufo. Siamo qui a inaugurare questo bellissimo albero delle radici a Santa Paolina che festeggia il Natale ma che è l'inizio del nostro percorso che abbiamo fatto insieme con questo VOC per la valorizzazione del territorio. Ben vengano queste manifestazioni perché abbiamo veramente delle cose straordinarie, delle eccellenze che devono avere la giusta valorizzazione. Manifestazioni come questa di stasera devono avere la funzione proprio di farle conoscere a tutti. Le radici sono l'attaccamento ai principi, la volontà di costruire qualcosa di duraturo, soprattutto per le giovani generazioni. La presenza di tanti bambini questa sera è il messaggio migliore per combattere lo spopolamento di queste aree interne. L'uva scorre per vie segrete dal tralcio delle vigne, dall'incandesimo del vino. A volte deve fermentare messi o anni ma il suo cammino si compie sempre. Dietro una bottiglia di vino c'è qualcosa che arriva da molto lontano che viene dal sole e dalla profondità della terra. Il vino è il canto della terra verso il cielo. Il vino è il canto della terra verso il cielo.